Argomento della lezione di oggi è la commedia all'italiana. La commedia all'italiana è una corrente, un genere, nel senso però di insieme di film realizzato in un determinato periodo di tempo, quindi come abbiamo già detto è preferibile utilizzare il termine corrente, che si sviluppa in Italia in coincidenza con l'esplosione del cosiddetto boom economico, quindi siamo alla fine degli anni cinquanta. Convenzionalmente si prende come data d'inizio della commedia all'italiana il 1958, che è l'anno in cui viene realizzato il film di Mario Monicelli, I soliti ignoti. È un film comico che racconta la realtà italiana e ha anche al suo interno degli aspetti drammatici. È questa un po' la specifica caratterizzazione della commedia all'italiana, perché la commedia all'italiana si definisce tale all'italiana in quanto è sostanzialmente diversa dalle tipologie di commedie prodotti nello stesso periodo di tempo in altri paesi. La commedia all'italiana ha questo di specifico e di caratteristico, ovvero racconta la realtà italiana del momento e lo fa attraverso un impasto dei registri comico e drammatico. Le commedie all'italiana hanno un finale tutt'altro che è positivo. Nella commedia all'italiana, a differenza di quanto accade nella commedia cinematografica tradizionale, manca l'happy end, manca appunto il finale felice. La commedia all'italiana quindi è satira, è commedia di costume, perché attraverso il racconto divertente della società, non alieno da spunti drammatici, invita lo spettatore a riflettere su una situazione sociale, culturale, politica e civile. Abbiamo detto che la commedia all'italiana nasce nel 1958 con il film di Mario Monicelli, i soliti ignoti. Sostanzialmente la traiettoria principale della commedia all'italiana propriamente detta, proprio perché la commedia all'italiana propriamente detta si identifica con il boom economico, si conclude verso la metà degli anni Sessanta. Quindi noi generalmente parliamo di commedia all'italiana propriamente detta o, se preferite, di commedia del boom, riferendoci a quei film che rispondono a determinate caratteristiche di satira, di commedia amara che racconta la società, italiana prodotti in Italia dal 1958 al 1963. Quindi sono sostanzialmente cinque anni, cinque anni in cui assistiamo al fiorire e allo sviluppo della commedia all'italiana. Il primo film è nel 1958, I soliti ignoti. Possiamo prendere come riferimento per la fine di questo periodo aureo della commedia all'italiana, ovvero della commedia del boom, il 1963, quando viene realizzato il film I mostri, diretto da Dino Risi. Dino Risi con Mario Monicelli è sicuramente uno dei principali esponenti della commedia all'italiana. Ve ne sono anche altri, come per esempio Luigi Comencini. E più avanti altri prenderanno un po' il testimone di questi pionieri. E tra gli altri Ettore Scola, che realizzerà poi una sorta di appendice della grande stagione della commedia all'italiana con il film C'eravamo tanto amati. siamo già nel 1974, quindi molto distanti da quella che abbiamo preso come data di fine corsa della commedia all'italiana. Dopo i soliti ignoti vengono prodotte altre commedie all'italiana di grande successo. Nel 1962 viene realizzata da Dino Risi, che prima abbiamo citato in relazione al film I mostri, la commedia Il Sorpasso. Ecco, Il Sorpasso può essere preso un po' come riferimento di tutta quella commedia che in quegli anni racconta il boom economico. Perché Il Sorpasso è la storia di due persone molto diverse tra loro. C'è un giovane studente che è interpretato dall'attore francese Jean-Louis Trintignant, naturalmente doppiato in italiano da un grande attore come Paolo Ferrari, e c'è poi un personaggio più adulto, diremmo maturo, quasi di mezza età, sbruffone, che vive un po' la giornata, interpretato da Vittorio Gasman. Questi due personaggi in una Roma assolata agostana si incontrano casualmente e decidono di fare un viaggio verso il mare. Quindi il film è un vero e proprio road movie, cioè un film di viaggio che racconta quell'Italia fotografata nel pieno del boom nel 1962, quell'Italia che sta andando a folle velocità verso un progresso economico agognato. Ma come si conclude questa corsa? Si conclude con la morte di uno dei due protagonisti. Quindi vedete nella commedia l'italiana il protagonista, uno dei due protagonisti, muore. Questo vi fa ben capire quanto nella commedia l'italiana ci sia di amaro, quanto nella commedia l'italiana ci sia di sostanzialmente drammatico. La morte è un elemento della commedia all'italiana, quindi c'è poco da ridere, si potrebbe dire. Tuttavia il film ha un approccio satirico, cioè la realtà italiana viene raccontata in quel preciso momento in modo anche divertente, attraverso la storia di due esemplari di italiano. L'italiano giovane, timido, introverso, che vive un po' ai margini di questa euforia da boom economico, invece l'italiano un po' cialtrone, che vive di espedienti, che però gode la vita. Il viaggio di questi due personaggi è anche il viaggio attraverso un'Italia che sta cambiando. Siamo nel pieno del boom economico, però già possiamo intuire, o meglio Risi attraverso questo film intuisce quelle che sono le avvisaglie di una crisi che è dietro l'angolo. Dopo una folle corsa che ha lanciato l'Italia verso il progresso economico, finanziario, industriale, ecco che a un certo punto arriverà uno stop che nel film drammaticamente viene reso attraverso la morte di uno e due protagonisti. Il più giovane, il più idealista, quello forse però anche meno preparato alla vita, quello meno forte, quello che ha meno strumenti per sopravvivere. L'altro, Gasman, con tutta la sua cialtroneria, con tutta la sua approssimazione, in realtà è un personaggio molto più vitale. Anche questo è un paradosso, la commedia all'italiana è piena di questi paradossi. Quindi Il sorpasso, 1962, è un film che ci racconta il boom economico, ma ci fa anche capire come questo boom economico in Italia sia stato tumultuoso, che non sia stato gestito in modo accorto e che poi alla fine abbia deflagrato in una recessione. Nel 1964, di fatto, il paese è già in recessione. Nel 1964, nel cinema italiano, inizia tutta un'altra storia, ed è la storia del western all'italiana. Torniamo per un attimo alle caratteristiche della commedia all'italiana che in qualche modo già abbiamo accennato riferendoci a singoli film, in particolare al sorpasso. La commedia all'italiana è costituita da un insieme di film, abbiamo detto, prodotti in Italia tra il 1958 e il 1963. Poi certo si può anche utilizzare il termine commedia all'italiana in modo esteso, no? Anche oggi, quando esce un film italiano che racconta la società italiana contemporanea, privilegiando il registro comico, comunque quello della commedia si dice è una commedia all'italiana, ma non è corretto nella nostra accezione commedia all'italiana è qualcosa di molto specifico, un po' come il neorealismo. Il neorealismo ha una durata dal 1945 al 1952, da Roma città aperta a Umberto D. La commedia all'italiana ha anch'esso una durata dal 1958, i soliti ignoti, al 1963, i mostri. Come il neorealismo, anche la commedia all'italiana racconta la realtà. Racconta la realtà, però, a differenza di quello che facevano i registri neorealisti, non privilegiando il registro drammatico, ma quello della commedia. Similmente però ai registri neorealisti, i registri della commedia all'italiana raccontano la realtà privilegiando il bianco e nero. Cioè tutti i grandi film della commedia all'italiana sono film in bianco e nero. I soliti ignoti, il primo è un film in bianco e nero, il sorpasso è un film in bianco e nero, così come i mostri. E così come quel film del 1961 che si intitola Divorzio all'italiana, di Pietro Germi, che è per certi versi la commedia all'italiana che, almeno in quel momento, ha più successo nel mondo. Cioè è un film che ha talmente tanto successo che da quel momento si inizia a parlare di comedy Italian style. Il titolo del film Divorzio all'italiana, diretto da Pietro Germi, è nel mondo Divorzio Italian Style. Quindi si inizia a parlare di un Italian style della commedia, a partire dall'enorme successo di questo film del 1962 che è Divorzio all'italiana con Marcello Mastroianni, che è una classica commedia all'italiana perché si svolge in un paesino della Sicilia e racconta un aspetto dell'Italia che in quel momento di crescita economica, industriale, di progresso civile e democratico, rappresenta un legame con un passato, diremmo addirittura ottocentesco, se non feudale. Perché cosa racconta Divorzio all'italiana? Racconta la storia di un uomo, di un nobile, che è sposato con una donna. Ma nel 1961 in Italia non esiste il divorzio. E quindi come si può avere il divorzio in Italia se la legge sul divorzio ancora non esiste? Beh, naturalmente si può fare, ma questo è il paradosso, questo è l'aspetto comico della vicenda, si può fare ricorrendo alla cosiddetta legislazione che riguarda il delitto d'onore. In Italia all'epoca una serie di disposizioni legislative consentivano a un coniuge che avesse sorpreso l'altro coniuge, il marito o la moglie, in flagrante adulterio, cioè insieme all'amante, di uccidere l'uno o entrambi, senza incorrere nei rigori eccessivi della giustizia, cioè se avesse trovato l'amante in flagrante adulterio con il proprio coniuge, a quel punto poteva anche commettere un omicidio. Perché? Perché di fatto quell'omicidio sarebbe stato sanzionato con una pena detentiva assolutamente lieve. Ecco, questo naturalmente era qualcosa di drammatico, però nel film viene reso dal punto di vista comico. Il film è divertente, anche se racconta paradossalmente un omicidio, un uomo che decide di uccidere la propria moglie. È evidentemente un tema drammatico, ma viene svolto in chiave comica, quasi grottesca. Ecco un po' il segreto della commedia all'italiana. Commedia all'italiana vuol dire anche vedere un tema drammatico dal punto di vista comico, paradossalmente comico, qualcosa su cui magari si dovrebbe piangere e tuttavia su quel qualcosa si decide di ridere. Perché ridendo, ridendo Castigat Mores, ridendo si censurano i costumi. Quindi attraverso il riso nella commedia all'italiana, gli autori vogliono indurre nello spettatore una riflessione sui costumi del paese e soprattutto su come questi costumi debbano essere cambiati. Perché sono costumi ridicoli. Quando parlo di costume parlo naturalmente di qualcosa che attiene la società. Cioè la società italiana in quel momento viene di fatto ad essere l'oggetto della commedia all'italiano. Soprattutto quegli aspetti della società italiana, della realtà italiana, che possono essere criticabili, che sono censurabili, in quanto anacronistici, come il delitto d'onore. Quindi la commedia all'italiana è parente stretta del neorealismo. Come il neorealismo denunciava i mali della realtà italiana, così la commedia all'italiana denuncia i mali della società, della realtà italiana. Ma mentre il neorealismo operava questa denuncia su un piano squisitamente drammatico, la commedia all'italiana lo fa su quello appunto comico. Ora abbiamo detto che i grandi film della commedia all'italiana, come i grandi film del neorealismo, sono tutti in bianco e nero. Il bianco e nero è un po' il codice stilistico che queste due correnti del grande cinema italiano hanno nel trattare la realtà. Realtà che naturalmente nella commedia all'italiana assume questi contorni satirici, grotteschi, paradossali, perché appunto si tratta di un genere, o meglio di una corrente, che vuole muovere il riso dello spettatore, però un riso consapevole. Nella commedia all'italiana non abbiamo mai un umorismo superficiale, non abbiamo mai un umorismo di situazioni, non abbiamo mai un umorismo legato alla gag. Abbiamo un umorismo che è frutto di una critica, anche severa, della realtà contemporanea italiana. Quella realtà, appunto, abbiamo detto del boom economico. Perché la realtà del boom economico era una realtà che poteva essere oggetto delle critiche, dei registri della commedia all'italiana? Perché bisogna pensare che l'Italia, alla fine degli anni 50, è un paese che ha ancora grande tasso di analfabetismo, è un paese ancora sostanzialmente agricolo, è un paese che per certi versi, per tanti versi, è rimasto un po' fermo a molti anni prima. Nello stesso tempo, però, i consumi, la produzione, crescono a dismisura. È un momento che anche dal punto di vista tecnologico costituisce uno spartiacco rispetto al passato. È proprio in quel momento, siamo alla fine degli anni 50, che gli italiani possono avere tutti quei beni che all'epoca potevano essere considerati quasi di lusso e che oggi noi diamo per scontato, come l'automobile, il frigorifero, il televisore, la lavastoviglie, la lavatrice. Quindi gli italiani, in pochi anni, da civiltà contadina, che sostanzialmente erano, diventano una civiltà progredita, industrializzata. Ma questo percorso è molto veloce e lascia oltretutto molte persone indietro. E la gestione di questo percorso così veloce è appunto criticabile, cioè è come se l'Italia fosse una macchina lanciata ad alta velocità verso l'orizzonte, senza però che alla guida di questa macchina ci sia qualcuno che realmente sa dove arrivare e come arrivare al risultato voluto. Ecco la grande metafora del sorpasso. Alla fine del film i due protagonisti si trovano in macchina, a un certo punto il guidatore, quello più anziano, quello più ricco di spirito vitale, lancia la macchina appunto in un sorpasso lungo una strada piuttosto stretta, fino ad uscire fuori strada. Lui si salva perché si getta dalla macchina, l'altro rimane nell'automobile e muore il giovane. Ecco la fine del boom economico dell'Italia. L'Italia è un'automobile lanciata a folle velocità che a un certo punto non può che andare a sbattere. Nel film addirittura precipita in un burrone, in una scarpata. È una metafora proprio dell'Italia. Il cinema italiano in quel momento racconta il boom individuando anche quella che sarà l'Italia futura, quella che sarà l'Italia che verrà immediatamente dopo. L'euforia del boom fa vivere a tutti gli italiani un momento di estrema felicità, ma in realtà questa felicità ha un caro prezzo perché dopo il boom ci sarà appunto una congiuntura, una recessione. Poi l'Italia addirittura negli anni 70 entrerà in quello che è il momento più buio della sua storia, i cosiddetti anni di piombo che saranno caratterizzati da violenza, micro e macro criminalità, dal terrorismo politico. Insomma un periodo veramente rivisto oggi nefasto nella storia del nostro paese. Però ancora in quei primi anni 60 l'Italia è un paese che vuole godere di tutta questa nuova possibilità che offre il progresso. Anche è tecnologico, l'automobile diventa il simbolo di questa libertà e di spostamento. L'italiano si sente in qualche modo quasi onnipotente, un po' come il protagonista del sorpasso interpretato da Gasman che anche se non ha niente, anche se vive despedienti, però vive di questa grande euforia. Ma in realtà questa euforia ha un prezzo, la morte di un'altra parte d'Italia rappresentata non per niente dal giovane, no? Sono poi i giovani che soprattutto pagano i momenti di crisi e tutto questo è raccontato in modo perfetto nel film Il sorpasso. Prima del 1958 la domanda che ci si può legittimamente fare è esiste una commedia all'italiana prima del 1958, prima dei soliti ignoti? Beh la risposta non può che essere negativa in quanto come abbiamo visto per il neuralismo, se il neuralismo è una corrente cinematografica che si identifica con la rinascita del paese dopo la fine della seconda guerra mondiale, così la commedia all'italiana è una corrente che si identifica con gli anni del boom economico, quindi commedia all'italiana sono prodotte negli anni del boom economico. In precedenza, ai soliti ignoti, alla prima commedia che convenzionalmente riteniamo la prima l'italiana, c'era stato un cinema comico, un cinema anche di commedia che raccontava il paese, però questa commedia, questa comicità cinematografica precedente al 1958 era sostanzialmente legata ad una sorta di riproposizione edulcorata della realtà. Pensiamo per esempio anche ai film di Don Camillo, i film di Don Camillo indubbiamente raccontano l'Italia dei primi anni 50, però è un'Italia per certi versi pacificata, semplificata, dove i problemi vengono risolti. Alla fine nella serie di Don Camillo, che è una serie cinematografica molto importante per il cinema italiano, noi abbiamo due protagonisti che non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro. Perché? Perché Peppone è un sindaco comunista, Don Camillo è un prete cattolico e in quel momento di guerra fredda, in cui c'è una forte contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, in quel momento in cui l'Italia è nel novero delle cosiddette potenze occidentali, la contrapposizione ideologica è fortissima. Quindi un sindaco comunista e un prete cattolico, Peppone e Don Camillo, non possono apparentemente almeno trovare tanti punti in comune e tanti punti di contatto. Invece tuttavia, per certi versi, tutti i film della serie finiscono con una sorta di, se vogliamo, relazione tra i due protagonisti che si fa sempre più stretta. Cioè i due protagonisti che alla fine ci sembrano così diversi, alla fine ci sembrano anche tanto uguali, quasi come se fossero due facce della stessa medaglia. Quindi c'è anche una ideologia, se vogliamo, di pacificazione, c'è una realtà raccontata in chiave positiva. Ci sono dei problemi che vengono risolti. Questo in Don Camillo. Se invece per esempio parliamo del cinema di Totò, beh lì siamo dalle parti di un cinema comico puro, non un cinema di commedia, perché nel cinema di Totò non è tanto importante la satira, non è tanto importante la riflessione sulla società, quanto una sorta di idea universale di commedia. Totò alla fine è una maschera, è una sorta di maschera perenne e non per niente i film di Totò sono sempre attuali. Ancora oggi noi in Italia li vediamo sistematicamente, nonostante che siano stati realizzati 60, 70 anni fa. Questo per dire come il cinema di Totò sia un cinema anche un po' svegato dal presente all'attualità. La commedia all'italiana no, la commedia all'italiana racconta l'attualità di quel momento e differentemente da quello che capita nella serie di film di Don Camillo, nella commedia all'italiana come anche nel neorealismo c'è un approccio problematico alla realtà. Ovvero si presenta una realtà che ha dei problemi, ha come si dice oggi delle criticità, ma nessuna commedia all'italiana offre la soluzione. Cioè la commedia all'italiana similmente al neorealismo mostra una realtà che bisognerebbe migliorare. Il film, la commedia all'italiana come il neorealismo in qualche modo ci induce a pensare quali possono essere i correttivi a questa realtà che non funziona, ma non ci dà una soluzione buona per tutti. Perché la commedia all'italiana come il neorealismo vuole soprattutto interpellare l'intelligenza dello spettatore, che deve come prendere coscienza di quello che non funziona e capire che un certo problema o certi problemi vanno risolti. Questo naturalmente avviene nella commedia all'italiana come nel neorealismo grazie anche alla mancanza di lieto film. Se noi vediamo un film e questo film finisce bene, noi ci alziamo dalla poltrona del cinema o della propria abitazione e pensiamo, vedi, ci sono dei problemi ma per fortuna questi problemi si possono risolvere. Quindi c'è una sorta di comunicazione conservatrice, no? Perché dobbiamo tanto adoperarci per risolvere i problemi se questi problemi sono comunque risolvibili, come il film ci ha mostrato. Nella commedia all'italiana come nel neorealismo ci sono sì dei problemi ma questi problemi non vengono risolti nel film. Anzi molto spesso nei film della commedia all'italiana a problemi si aggiungono altri problemi. Quindi se all'inizio del film il protagonista ha un problema possiamo essere sicuri che alla fine del film ne ha moltissimi altri. Anche i soliti ignoti che la prima commedia all'italiana è una commedia che finisce male perché i soliti ignoti racconta la storia di un gruppo di poveracci, di persone che decidono di fare un colpo, decidono di fare una rapina, ma sono poveri ma sono anche inadeguati, non hanno gli strumenti, sono un po' cialtroni, cercano di essere dei professionisti ma in realtà non lo sono, tanto che alla fine questo colpo non riescono a farlo. Il film finisce male, no? Cioè quindi la commedia all'italiana è anche se vogliamo il racconto di qualcuno che vuole fare qualcosa senza averne i mezzi e senza avere in realtà la possibilità concreta di fare questo qualcosa. Quindi la commedia all'italiana è sempre la storia del fallimento di un personaggio. Da questo punto di vista è emblematica una grande, un'altra grande commedia all'italiana che è Una vita difficile di Dino Risi, vedete come i registi ritornano, interpretata da Alberto Sordi. Alberto Sordi nel film è un giornalista che attraversa la storia d'Italia dal 1943-44 fino al 1960, cioè quando il film poi racconta nel presente la storia, ed è appunto il racconto di una persona, di qualcuno che vuole fare il giornalista, che vuole raccontare la realtà però slegato da qualsiasi condizionamento politico, economico e naturalmente non vi riesce, non vi riesce perché gli strumenti della comunicazione anche nel campo giornalistico rispondono naturalmente a dei gruppi, che sono anche dei gruppi di potere, no? Quindi vedete che attraverso la storia di questo personaggio si racconta qualcosa dell'Italia, cioè come per esempio in Italia non sia possibile fare un giornalismo libero nell'Italia del 1960, o se vogliamo appunto 62, poi quando il film viene ad essere distribuito nelle sale, è cinematografico. La commedia all'italiana, ecco noi abbiamo parlato dei registi, Mario Monicelli, Dino Risi, Luigi Comencini e altri, Pietro Germi, Divorza all'italiana, però la commedia all'italiana è anche una commedia di attori, cioè nella commedia all'italiana noi abbiamo anche dei protagonisti ricorrenti, che sono Alberto Sordi, Vittorio Gasman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, ecco questi sono i cinque principali, cioè per avere una grande commedia all'italiana dobbiamo avere almeno uno di questi cinque attori, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gasman, Marcello Mastroianni. Sono quasi una sorta di marchio di garanzia, se c'è uno di questi attori è una commedia all'italiana. La commedia all'italiana è anche una commedia che viene realizzata in un momento sostanzialmente molto felice del cinema italiano, perché è un momento in cui in Italia si realizzano molti film, è un momento in cui i film italiani vengono anche esportati all'estero, è un momento tra l'altro che coincide con una rinascita del cinema italiano, perché il cinema italiano soprattutto nella seconda metà degli anni 50 entra in crisi. Entra in crisi perché da un lato per lo sviluppo della televisione, la televisione è la novità tecnologica del momento e quindi la televisione inizia a erodere pubblico al cinema. La televisione in Italia si sviluppa in modo pervasivo a partire dal 1954. E poi il cinema italiano viene da una linga crisi che è dovuta anche alla concorrenza del cinema americano, liwoodiano, che però alla fine degli anni 50 molla un po' la presa, cioè alla fine degli anni 50 il cinema americano non è più così importante in Europa. Alla fine degli anni 50 anche l'effetto di novità della televisione inizia un po' ad allentare la propria presa sul pubblico. Ecco perché nel 1958 inizia un periodo di cinque anni in cui il cinema italiano attraverso la commedia italiana racconta il paese e lo fa in modo tale da avere successo anche all'estero, perché è una forma nuova di commedia, quindi conta anche l'originalità dell'approccio alla commedia che hanno i registi della commedia all'italiana. Ora dopo il 1963, dopo i mostri, perché diciamo che la commedia all'italiana termina la sua traiettoria principale? Perché intanto nel 1964 esce per un pugno di dollari, quindi nasce la grande stagione del western all'italiana. Per un pugno di dollari, a differenza delle commedie all'italiana precedenti, realizzate in precedenza, è un film a colori, quindi vuol dire che il cinema italiano cambia anche dal bianco e nero al colore, cioè per un pugno di dollari il colore inizia ad essere un po' dominante nella produzione cinematografica italiana. Ora dopo il 1963 possiamo trovare delle commedie all'italiana, non sono più le commedie del boom, perché non c'è più il boom, però delle commedie che si richiamano la grande tradizione della commedia all'italiana in bianco e nero. Film come L'armata Branca Leone, che è un film del 1966, diretto da Mario Municelli, lo stesso regista dei solidi ignoti. Ora, L'armata Branca Leone può sembrare un paradosso che venga definito una commedia all'italiana, perché è un film che è ambientato nel Medioevo, nell'anno 1000, però è commedia all'italiana, anche se in senso esteso rispetto a commedia del boom, perché racconta l'Italia parlando del Medioevo, cioè l'Italia del presente viene raccontata affrescando un'immagine dell'Italia del Medioevo, in cui noi contemporanei di quel momento, degli anni 60, possiamo riconoscerci. Quindi è, se volete, un uso della storia del passato per raccontare il presente. È in termini critici, satirici. È commedia all'italiana perché il protagonista è uno dei cinque grandi della commedia all'italiana, i cinque grandi mattatori della commedia all'italiana, che è Vittorio Gasmo. È commedia all'italiana perché il film racconta la storia di un cavaliere che con un gruppo di persone sgangherate, che sembrano un po' i soliti ignoti del film di Municelli, deve conquistare un feudo. C'è un viaggio e c'è un feudo da conquistare, c'è un castello da conquistare. Naturalmente questa conquista fallirà, quindi anche L'Armata Branca Leone è il racconto di un fallimento. Il racconto di un fallimento è il modulo narrativo principale della commedia all'italiana. Quindi vedete che ci sono tutte le caratteristiche della commedia all'italiana, anche se il film ha colori, anche se il film viene realizzato nel 1966, quindi un po' fuori tempo massimo. C'eravamo tanto amati, prima l'ho citato, del 1974. È un film a colori, d'accordo? Il film di Ettore Scola. È una commedia all'italiana. Perché? Perché è un film che racconta anche esso il fallimento di alcuni personaggi, le cui vite si intrecciano a partire dalla guerra, dalla resistenza, per arrivare fino all'inizio degli anni 70. Sono quattro personaggi che si incontrano e si lasciano per poi incontrarsi di nuovo nel corso del tempo. E ogni volta l'occasione di reincontrarsi significa fare un bilancio. E ogni volta questo bilancio è un bilancio decisamente fallimentare. È il fallimento anche di una generazione che era cresciuta durante la guerra con l'idea di una società più giusta, di quella fascista, che poi si ritrova all'inizio degli anni 70 con una società invivibile, con una società che si condanna per primi noi stessi. È commedia all'italiana perché è un film dove ci sono addirittura due di quei cinque grandi protagonisti della commedia all'italiana, ovvero Vittorio Gasman e Nino Manfredi. Quindi nella commedia all'italiana, tornando a quella realizzata tra il 58 e il 63, si può anche raccontare il presente parlando del passato. È il caso di alcune grandi commedie all'italiana del boom, come per esempio La Grande Guerra, che è un film con Alberto Sordi e Vittorio Gasman, che sono due poveri, umili soldati durante la prima guerra mondiale. È un film divertente, anche se racconta la guerra, è un film divertente anche se il film finisce con la fucilazione dei due protagonisti. Ecco, la forza della commedia all'italiana, alternare la comicità e il dramma, la comicità e la tragedia. La morte addirittura del o dei protagonisti è caratteristica ricorrente nella commedia all'italiana. È una commedia all'italiana che utilizza il passato per parlare del presente tutti a casa, che è un film di Luigi Comencini del 1960 con Alberto Sordi, che è la storia di un soldato italiano che si ritrova al fronte nel momento dell'armistizia, non sa più quello che fare, no? Cioè un'Italia lasciata in balia di se stessa, perché da un lato ci sono i tedeschi, dall'altro gli anglo-americani e molti italiani letteralmente non sanno cosa fare in quel momento specifico dell'autunno del 1943, quando il fascismo è caduto, quando ancora non si sa quello che sta arrivando. Allora attraverso la storia di un passato così critico precario si racconta anche una precarietà nell'Italia del 1960. Quindi la commedia all'italiana racconta il presente, ma lo fa in alcuni casi riferendosi al passato, cioè prendendo storie del passato, raccontando nel presente, perché attraverso quelle storie del passato si racconta in modo appena camuffato il presente che l'Italia sta vivendo in quel periodo. Oggi noi possiamo chiederci esiste una eredità della commedia all'italiana? Oggi esiste un cinema italiano capace di fare altrettanta satira, commedia di costume, di così grande forza come quella della commedia italiana tradizionale? Bene, questo naturalmente in alcuni casi può essere. Ci sono dei film negli ultimi anni che pur nel registro della commedia hanno raccontato l'Italia del presente. Certo non ci sono più quei grandi registi, non ci sono più quei grandi attori. È cambiato il cinema italiano qualitativamente, questo è un fatto oggettivo, però tuttavia anche oggi possono essere realizzati in Italia. Possiamo vedere dei film italiani che raccontano in chiave di commedia la realtà, denunciandone gli aspetti di criticità. Ce ne sono di film, c'è una serie che ha il suo primo titolo in Smetto quando voglio. Smetto quando voglio è un film che ha avuto due seguiti, due sequel, e racconta proprio un tema molto legato all'attualità, ovvero la mancanza di meritograzia, cioè una società, quella italiana, che non premia il merito, ma premia qualcos'altro. Quindi si racconta attraverso quel film e i suoi seguiti la realtà italiana, qualcosa che non funziona e che riguarda direttamente i giovani che si trovano in Italia senza lavoro. oppure si trovano senza che le loro qualità vengano adeguatamente riconosciute dal mondo del lavoro. Quindi ci sono anche responsabilità di chi governa, della politica, dell'apparato statale, della burocrazia. Ci sono poi altri film che raccontano in chiave di commedia i contrasti all'interno della società italiana tra fasce sociali diverse. Il caso per esempio di un film di Riccardo Milani come un gatto intangenziale. Quindi ancora oggi è possibile fare una commedia, ma sicuramente rispetto agli anni del boom non assistiamo più a una fioritura complessiva di film che hanno comunque alla fine una loro omogeneità. Perché sono tutti film, quelli della commedia, l'italiana propriamente detta, che hanno delle caratteristiche comuni. Pur essendo i registi diversi, pur raccontando storie diverse. Tutti questi film hanno delle caratteristiche in comune. Sono comunque tutti film di altissima qualità. In tutti gli aspetti. La recitazione, la regia, le storie, i dialoghi. Sono film che raccontano il paese in modo ironico, sarcastico, grottesco, divertente, ma anche amaro, drammatico, tragico. Sono film che ci restituiscono una fotografia della realtà italiana di quel momento. Quindi noi, per capire cos'è stato il boom economico, dobbiamo vedere i film della commedia all'italiana, di quegli anni. Per capire cos'era il paese dopo la seconda guerra mondiale, dobbiamo vedere i film del neorealismo. Cioè queste due grandi correnti cinematografiche così legate, così simili per certi versi nel loro denunciare la realtà, così simili nel loro voler rappresentare una realtà, permettetemi il gioco di parole, realistica, sono due correnti attraverso le quali noi possiamo fare la storia del nostro paese nel dopoguerra dal 1945 al 1963. Poi inizierà un'altra storia nel 1964 con, per un pugno di dollari, il cinema italiano in bocca tutta un'altra strada.